Ciao e benvenuto alla nuova edizione di questo Gran Galà di fine stagione. Ci fa molto piacere averti qua con noi in Venezia, e che è la tua affa Romeo, che abbiamo un piacere di parlare di dove vieni. Mi chiamo Valerio Toniolo e vengo da Mestre, di Venezia. Benvenuto Valerio. È la tua prima volta al Gran Galà, cosa ti ha spinto a partecipare e cosa ti potrà invogliare a tornare ancora qua con noi? No, beh, ormai è già anni che partecipo e si vede anche dal divisa che ho, quindi sono iscritto da quasi cinque anni con stile affa Romeo e mi spinge a partecipare e trovare un gruppo di persone che crede nell'amicizia attraverso la macchina. E' ovviamente questo. Cosa ne pensi di questa manifestazione, dei suoi organizzatori e del club? Già il fatto che sono un socio del club è già sintomatico che mi trascina e la voglia di fare unione, di fare gruppo appunto attraverso la macchina e questo l'ho trovato in stile alfa Romeo. Definisci cosa rappresenta per te l'Alfa Romeo della vita di tutti i giorni. Come vivi questa passione? Beh, sinceramente la gioia di vivere una giornata in modo diverso perché non potendo utilizzare la mia Alfa Romeo per lavoro, quando la utilizzo ne sono molto felice. Le emozioni che mi trasmette di solito non riesco a trovarle nella macchina che uso obbligatoriamente per lavoro. Grazie Valerio per la tua disponibilità, ti auguro una buona giornata e appunto spero che per te sia un ottimo monitor per poter utilizzare la tua Alfa oggi. Sicuramente, grazie a voi, ciao!